Dopo l'oro olimpico le polemiche intorno a Imane Khelif restano sempre vive. Quel che sta succedendo di recente ha dell'incredibile, ma del resto appare inevitabile. L'atleta intersex algerina, medaglia d'oro ai giochi di Parigi 2024, Imane Khelif, ha presentato una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato. Sostiene di essere stata vittima di polemiche, amplificate online, su questioni riguardanti il suo genere. A dare l'annuncio è stato l'avvocato della pugilessa, Nabil Budi. Appena premiata con la medaglia d'oro, l'atleta ha deciso di avviare una nuova battaglia, questa volta legale, fa sapere il legale in un comunicato. Quella della giustizia, della dignità, e dell'onore. Il legale aggiunge inoltre di aver, depositato oggi una denuncia per fatti di cyber molestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l'incitamento all'odio online. Ricordiamo che dopo la vittoria dell'oro olimpico, Khelif si è tolta qualche sassolino. Ho vinto da donna, dice la campionessa olimpica. Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna. E su questo non ci sono dubbi. Chi ha parlato è nemico dei successi, e questo mio ha un sapore particolare proprio per gli attacchi che ho subito. Il caso non è affatto chiuso. La denuncia del resto non è altro che un atto dovuto, rispetto alla miriade di commenti intrisi d'odio arrivati nelle ultime settimane. Iscriviti e attiva la campanella.